Il Consiglio Comunale di Chieti ha approvato il piano di risanamento della società in house teat e servizi che si occupa di riscossione dei tributi, gestione dei parcheggi a pagamento e del cemitero. La delibera è importante ai fini del piano di concordato preventivo che va depositato in tribunale entro il 31 marzo nell'ambito della procedura che si è aperta dopo l'istanza di fallimento della società presentata nei mesi scorsi dalla Procura della Repubblica ha avuto 13 voti a favore della maggioranza e un voto contrario nella stessa maggioranza di centro-sinistra. I consiglieri di minoranza sono usciti dall'aula mentre al Consiglio non si sono presentati i consiglieri assessori del Polo Civico che fa capo al vice sindaco Paolo De Cesare e che fa parte della maggioranza. Su un altro fronte la Corte dei Conti dovrà decidere sul piano di riequilibrio consegnato dal Comune di Ceferrara già dall'anno scorso e molto probabilmente la decisione ci sarà entro la fine di aprile. Sindaco fiducioso? Il Comune non andrà in dissesto? Allora guardi io sono fiducioso nel senso che è chiaro la decisione dei giudici è inappellabile però i giudici dovrebbero capire e sapere che un sindaco deve fare di tutto per non portare in dissesto la propria città con tutte le conseguenze che tutti i cittadini possono ben capire. Ieri parte della maggioranza anche Paolo De Cesare non si è presentata in Consiglio deluso? Allora se io le dicessi che non sono deluso sarei un ipocrita. A questo punto giriamo alla domanda al diretto interessato perché il vice sindaco Paolo De Cesare e il suo gruppo civico non hanno partecipato all'importante seduta di ieri? A seguito di una serie di aspetti meramente tecnici ed amministrativi che sono emersi sia con l'ultima deliberazione della Corte dei Conti molto corposa la quale per il 99% si basa su teatro e servizi. C'è un procedimento della Procura della Repubblica e soprattutto ci sono i pareri negativi del Collegio dei Revisori dei Conti, del Segretario Generale che è anche dirigente agli affari finanziari. Non è che qualche consigliere ha paura di pagare di tasca proprio a ciò che è successo? In merito alle preoccupazioni evidentemente c'erano e ci sono perché chiaramente davanti a un'impostazione della Corte dei Conti che noi abbiamo letto in un certo modo, magari qualcun altro no, è normale che alcuni consiglieri che peraltro sono anche nuovi probabilmente non se la sono sentita a sostenere questo provvedimento. Un rischio il politico che viene eletto per fare il bene della propria città se lo deve accollare altrimenti diventa un passante qualunque che di fronte alle difficoltà va via e rimane solamente quando le cose vanno bene.